Raffaella Perri, sindaco di Decollatura. Siamo qua a Soveria per questo convegno sull'estetica oncologica, molto importante per le donne. Sicuramente è un aspetto molto importante della cura soprattutto della persona, quindi è un effetto conseguente la malattia oncologica ma è sicuramente uno degli aspetti fondamentali secondo me che bisogna trattare e bisogna curare perché una donna dopo un intervento sicuramente si trova in una condizione diversa rispetto al precedente. Quindi è necessario che venga curata soprattutto la sua psicologia. Proprio adesso infatti parlavo con la dottoressa Molinaro e mi ha presentato la psicologa del reparto di oncologia. Credo sia l'aspetto più importante per una donna da curare dopo la malattia. Grazie. 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 Grazie.